È una grande emozione tornare a casa, tornare dove ho iniziato a giocare, quindi è qualcosa che ho sempre sognato perché appunto è un ridare indietro, qualcosa che mi è stato dato dall'inizio, qualcosa che posso sicuramente aiutare il club e sono a casa, mi sento proprio tranquillo dove ho iniziato, quindi bellissimo. Anche se non è un passo avanti nella tua carriera, comunque un ritorno a casa fa sempre piacere, qual è il tuo obiettivo per questa stagione? Sicuramente fare un bel campionato con tutta la squadra, ma è più importante secondo me la crescita del gruppo, la crescita dei giovani e quindi dare indietro quello appunto con l'esperienza che ho avuto nei campionati. Non lo vedo come tornare indietro perché appunto è una crescita per me anche sotto quell'aspetto lì, quindi il poter aiutare gli altri e dare la propria esperienza a disposizione di un gruppo che poi punta ad arrivare a dei risultati importanti. Per i giovani è importantissimo dare una costanza nel loro percorso, soprattutto quando non vi è scelta, nel senso che ciò che ho dovuto fare io nel 2011-12 era l'unico corridoio possibile per arrivare all'alto livello. Ora voglio con la squadra e con tutto il club dare un'opportunità ai giovani di scegliere almeno, scegliere di poter rimanere a Pesaro per alzare il proprio livello senza dover lasciare casa, la propria famiglia, gli amici in maniera obbligata. Quindi appunto aiutare i giovani a crescere a casa. Lui può dare qualcosa non solo di rugby ma anche come persona e vogliamo creare un ambiente qui dove crescere le persone, anche i giocatori. L'ambiente è molto importante in società di rugby e dopo il covid è un po' come il rugby 2.0 perché il mondo ha cambiato. Dobbiamo crescere i nostri associati sui valori differenti di prima. Con questi acquisti qui, quindi anche il ritorno di giocatori importanti come lui, che aspettative avete per la stagione che parte tra qualche mese? Pesaro è difficile. Pesaro ha una storia di produzione di giocatori buoni anni fa. Un gruppo di giocatori che gioca per giocare il rugby a livello alto devono andare a altre società. Vogliamo creare un ambiente qui, sul campo, in palestra e tutti, qualcosa di più professionale.